Per cominciare, apri la tua applicazione Instagram. Ora sei nella tua home page quindi da qui tocca l'icona del profilo in basso. E ora sei nella pagina del tuo profilo, quindi tocca le tre linee nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quindi tocca impostazioni e privacy. E tocca in centro account. E sotto la voce di impostazioni account, tocca password e sicurezza. Quindi, sotto i controlli di sicurezza, tocca la prima opzione che dice dove hai effettuato l'accesso. Ora scegli quale account. Ed ecco i dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo account. Se desideri uscire da questo account da un altro dispositivo, scorri fino in fondo e tocca il selezione i dispositivi da disconnetterti. E ora puoi selezionarli e toccare Neshi. E basta. Grazie per aver guardato.